Appena finito il Gran Premio di Gran Bretagna, tra un clima molto mutevole, strategie giuste e sbagliate e una storica vittoria, si è concluso uno dei Gran Premi più interessanti della stagione della Formula 1 2024, mondiale Formula 1 che è arrivato al Giro di Boa e il round inglese ha ospitato infatti il dodicesimo round su 24 previste dell'intero Circus. Un Circus che appunto ha visto condizioni mutevoli perché la gara di Silvers non è partita in condizioni di nuvoloso, è arrivata la pioggia intensa fino a un certo punto, poi ha smesso, ha ricominciato a piovere, a un certo punto la pista si è asciugata e la gara è terminata sotto il sole con una vittoria storica perché per la 104esima volta in carriera Sir Lewis Hamilton vince un crepempo di Formula 1 e torna a trionfare a due anni e mezzo dall'ultima volta in una gara però che vedeva delle forze in campo ben precise. La Mercedes per la verità erano delle forze in campo che poteva puntare direttamente alla vittoria, una gara quella di Silverstone che appunto vedeva Russell e Hamilton completare la prima fila, una McLaren che poteva recriminare qualcosina in qualificazione, in terza posizione con Landon Norris soltanto quarto leader del campionato Max Verstappen e indietro tutti gli altri con una Ferrari letteralmente anonima ma della Ferrari appunto ne parleremo. Alla fine a trionfare dopo appunto questo marasma di condizioni mutevoli, strategie giuste e sbagliate e chi più ne ha più ne metta è Sir Lewis Hamilton che appunto torna a vincere dopo Arabia Solita 2021 che è stata quella gara incredibile, folle per certi versi con break test a profusione tra Hamilton e Verstappen. Alla fine vinta in volata appunto dal pilota inglese che poteva giocarsi il mondiale 2021 che sappiamo tutti come è andata a finire con la vittoria di Max Verstappen. Questa vittoria per Hamilton è stata di fatto una liberazione perché appunto tanto tempo a soffrire con una Mercedes inizialmente non competitiva, adesso la Mercedes è tornata a Silverstone. Era la controfavorita tecnica in sera la McLaren che secondo me però l'ha buttata via però appunto abbiamo visto un Hamilton mai così emozionato come neanche la prima volta che vinse e parliamo in quel momento del Canada 2007 quando appunto arriva la prima vittoria da rookie e appunto 17 anni dopo Hamilton vince molto emozionato anche tra le lacrime. La vittoria di Silverstone, una vittoria appunto figlia della strategia corretta perché è stato uno dei primi a fermarsi nel secondo pit stop, quello che da gomme intermedie è passato a gomme da asciutto, Hamilton mette le soft nuove, Norris sbaglia invece il momento di pit stop, lo fa non solo un giro dopo ma lo fa perdendo un sacco di tempo e alla fine suona appunto sì, God Save the King ma non per la seconda volta in carriera per Landon Norris ma per la centoquattresima per Lewis Hamilton. È una vittoria che per il titolo del mondo va detto è assolutamente platonica perché Hamilton è ottavo assoluto in classifica con 110 punti ma appunto ha dimostrato come questa Mercedes a Silverstone era insieme alla McLaren la controfavorita tecnica perché appunto prima fila non si fa per caso in qualificazione, il passo era molto buono in particolare nelle condizioni di molto umido, Hamilton ha avuto la meglio di Russell che gli partiva davanti e quindi Hamilton ha avuto una vittoria pulita, meritata e quindi è giusto consacrare la centoquattresima vittoria in carriera del pilota inglese. Secondo è Max Verstappen che anche dalle condizioni pessime di questa Red Bull in questo assetto di Silverstone ci ha messo veramente tanto nel suo e ancora una volta dimostra che è un fenomeno nonostante appunto non abbia vinto ma appunto ha azzeccato anche lui la strategia, ha retto quello che doveva reggere con una Red Bull non competitiva. Verstappen era addirittura quinto prima del pit stop col cambio delle gomme intermedie riesce ad avere la meglio di Lando Norris che invece la steggia la sbagliata e arriva secondo allungando proprio sul diretto avversario, ripeto il mondiale è finito ma appunto Lando Norris poteva vincere una gara che la McLaren doveva evidentemente capitalizzare di più. Lo dico senza se e senza ma, se Lewis Hamilton è il driver of the day Lando Norris nonostante una terza posizione è la delusione del giorno e lo dico da tifoso McLaren perché la McLaren da un po' di gara a questa parte è la miglior macchina in pista come team, come squadra, ha dei picchi di velocità molto interessanti e tutte le volte gli manca sempre qualcosa per vincere. In questo caso si è stata sbagliata ma non mi riferisco come ha detto anche in telecronica al primo pit stop dove potevano fare il doppio, in realtà in quel caso no perché non c'era il margine per fare il doppio pit stop, avresti sacrificato comunque Piastri. Piastri è stato comunque sacrificato facendolo fermare un giro dopo rispetto a Norris ma non potevi fare il pit stop doppio, non potevi fare invece diversamente secondo me nella seconda occasione, potevi evidentemente però sfruttare un pit stop molto più veloce perché Norris nella fretta evidentemente sbaglia il punto d'ingresso in piazzola dei pit stop perde 4 secondi e mezzo nella sosta e da qui di fatto si spiega non solo poi la seconda posizione momentanea ma appunto perché poi si è ritrovato con un distacco incolmabile con questo Lewis Hamilton che poi negli ultimi giri ha gestito e basta, peccato perché Norris ha tanto rosicato anche vistosamente sul podio e ne avrebbe vendonte per questa gara, l'aveva potuta vincere e invece arriva terzo e perde solo punti e basta rispetto a Max Verstapp. Nel driver del giorno invece è ovviamente Lewis Hamilton per i motivi di qui sopra, non vinceva ad Araboset 2021, ha fatto una grandissima strategia, ha sfruttato meglio il momento di condizioni non propriamente chiare tra asciutto e bagnato e ha capitalizzato quello che doveva capitalizzare e dunque è la 104esima vittoria in carriera per uno che non vinceva da un sacco di tempo. E' una bella storia perché comunque il più grande britannico di sempre e non solo praticamente dalla Formula 1 vince in casa sua nell'ultima gara con la Mercedes, il team che lo ha fatto consacrare come uno dei dominatori di questo sport ciclico che è la Formula 1. La prossima volta in realtà Hamilton andrà a Silverstone con la divisa rossa della Ferrari, ma appunto siamo veramente sicuri che andare in Ferrari nel 2025 sia un upgrade della carriera, è un grande regolamento di essere mai posteri. Vedendo questa Ferrari nel 2024 assolutamente no perché la Ferrari fa quinto con Sainz e ritirato con Leclerc del mezzo. C'è Oscar Piastri che appunto anche lui rosica un po' per i massimi ma appunto Piastri è stato sacrificato dal team McLaren in quanto secondo pilota della scuderia arancione, Piastri poteva fare podio, probabilmente sì, però appunto nel primo pit stop che lo ha coinvolto non c'era il margine per fare il doppio pit stop, Piastri aveva soltanto tre decimi di distacco da Norris e comunque Piastri avrebbe perso tempo in ogni modo. Quinto è Carlo Sainz che serve il salvabile con una Ferrari che si conferma ancora una volta la terza forza in campo, i valori sono gli stessi di fatto delle ultime competizioni, una gara che ha visto la Ferrari tornare un po' ai tempi di Catalunia, quindi tre settimane fa con evidentemente tanti interrogativi nonostante gli aggiornamenti che sono stati portati perché la Ferrari come sempre succede fa degli aggiornamenti che danno dei risultati nell'immediato ma a lungo termine si rimane esattamente dove si era prima e anzi gli altri migliorano appunto rispetto a Mercedes, basti pensare che Ferrari partiva davanti e adesso Mercedes è ampiamente davanti alla Ferrari che ha fatto veramente il bello, soprattutto il cattivo tempo con Charles Kerr, ma ne parleremo. Sesto è Nico Hülkenberg che appunto non ci fosse stato Louis Hamilton a vincere questo Grand Prix ma sarebbe stato il driver of the day anche lui a mani basse. Sesto posto confermato così come al Red Bull Ring, grande stagione questa parte per il grande esperto pilota tedesco. Settimo è Alan Stroll che torna appunto dopo due gaga di stop. Ottavo è Fernando Alonso con delle Aston Martin che sembrano redivive ma appunto sono arrivati in queste posizioni anche grazie alla figlia strategia della Ferrari sbagliata. In nona posizione abbiamo Alexander Albon che seconda volta punti per lui con la Williams e decimo Yuki Tsunoda che appunto fa tornare a punti l'Alfa Tauri dopo tre gare di stop. Si ritira o meglio fa una figura orrenda Charles Leclerc che finisce quattordicesimo ed è una prestazione deludente non per lui che comunque avrebbe fatto se tutto andava bene una gara anonima in sesta settima posizione ma per il muletto Ferrari che ancora una volta si distingue per sbagliare la strategia. Leclerc infatti viene richiamato ai box per mettere gomme intermedie, gomme intermedie che non funzionano in quanto la pista è asciutta. Leclerc perde un'eternità, viene doppiato insieme a Sergio Perez, altra delusione di questo Gran Premio e di questa stagione e fa veramente una figura barbina ma non per colpe sue. Leclerc purtroppo anche lui non capitalizza, è vero che massimo delle possibilità che può arrivare è quinta a sesta posizione però vedere un Leclerc così in disarmo battuto anche da Logan Surgent della Williams che ha fatto una buona gara per i suoi standard è veramente impietosa come cosa. Certo ripeto perdere 10 secondi al giro con gomme intermedie su pista asciutta non è propriamente l'idea del secolo e infatti si è visto occorre risettare tutto per la Ferrari 2 Cour sia per quanto riguarda gli aggiornamenti da portare nella prossima stagione o in corso di questa sia per vedere le strategie corrette. In tutto questo è un mondiale che dopo tre settimane consecutive di corse prenderà un attimo di pausa e si tornerà appunto Ungheria, circuito dell'Unghero Ring, circuito veramente tanto tecnico dove conta molto il carico aerodinamico e vedremo se questa volta Lando Norris ci sarà a vincere su Max Verstappen o a batterlo oppure Verstappen tornerà a essere il dominatore che noi tutti conosciamo al netto che il mondiale è indirizzato senza sé, senza ma verso l'Olanda. Se Mercedes ride in Formula 1 ride anche in Formula 2 perché finalmente possiamo celebrare la vittoria di uno junior team della Mercedes e non è Paul Aaron che non ha mai vinto in questa stagione ed era leader fino a questo weekend ma è la prima vittoria di carriera di Andrea Chimi Antonelli, pilota che è tanto pompato dai media quanto talentuoso, è un pilota che però va messo nel giusto contesto, ricordiamo che Antonelli ha fatto il doppio salto di categoria, l'anno scorso correva in F3 europea ed è andato adesso a correre in Formula 2 che è veramente un altro sport è come dire che un giocatore dalla serie C passa direttamente alla serie A di media classifica, quindi è uno scotto incredibile, Antonelli sulle connessioni di bagnato però a Silverstone ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo in una gara folle di Formula 2, quella del sabato con anche qui tantissime safety car per tanti incidenti, con strategie che evidentemente non c'erano perché evidentemente parliamo della gara sprint, ma tutte le volte Antonelli ha fatto il bello e il cattivo tempo mettendo sempre un vantaggio più grande rispetto ai suoi avversari, suona per la prima volta in Formula 2 dei tempi di Antonio Giovinazzi il canto degli italiani, il nostro lino nazionale. In seconda posizione abbiamo Zey Maloni che finalmente dopo una vita torna sul podio, il ragazzo delle Barbados e in terza posizione Cushmeni che in realtà va a beneficiare di una penalizzazione infritta a Gabriel Bortoleto di classifica di questo campionato. La gara 2 invece vede una vittoria importantissima perché suona la marsegliese per Isaac Ajar, pirata junior della Red Bull che vince non solo, capitalizzando anche la pole position e sfrutta lo zero di Paul Aaron che ha un weekend da dimenticare. L'Eston è arrivato qui come leader del campionato Formula 2 e adesso ne esce da secondo. Ajar è il nuovo leader del campionato con 183 punti di totale, con 117 invece per Paul Aaron. In seconda posizione abbiamo Zey Maloni che quindi fa un weekend di Silverstone veramente tanto sontuoso e torna prepotentemente in gioco per questo campionato e quindi può essere insieme a Bortoleto e Aaron un anti-Ajar nel corso della stagione. Lo vedremo ovviamente soltanto vivendo. Terzo posto invece per Jack Crawford che la gara in teoria l'avrebbe anche vinto al traguardia, è passato per primo ma appunto è stato penalizzato di 5 secondi per un safe release proprio su Zey Maloni. E quindi arriva un podio comunque per quello che ha vinto, la feature race di Barcellona, piatta americana del Team Dams. Chiudiamo con la Formula 3, una Formula 3 che ha visto delle gare pazze a Silverstone, il meteo in tutte le categorie propedeutiche, l'ha fatta da padrone e alla fine abbiamo però dei risultati a sorpresa non su chi ha vinto ma su qualche podio risultato della top 5. C'è una doppietta importante ed è di un junior team della Red Bull ovvero Arvid Limblad, primo pilota in stagione a fare una doppietta, sprint race e feature race, quarta vittoria in stagione per il pilota inglese per il quale suona God Save the King. Al sabato invece abbiamo una seconda posizione di Noel Leon, pilota messicano del Team VAR e poi abbiamo il primo podio del Peru nella Formula 3. Mattias Zacasetta, pilota appunto peruviano del Team Jenser Motorsport, capitalizza l'inversione della griglia, è un clima non propriamente idilliaco per fare il primo podio della carriera. Lindblad appunto invece si ripete in gara 2 in un campionato che però è molto tirato perché abbiamo tre piloti pienamente in corsa nel margine di sette punti e anche Leonardo Fornò che non è propriamente da escludere. Secondo è Gabriele Minì che appunto con questo podio della feature race prende la legge del campionato sfruttando la debacle anche qui del leader entrante ovvero Luke Browning che fa soltanto ottavo in gara feature e ventiquattresimo in gara sprint. Terza posizione invece per Callum Voisin, anche per lui è il primo podio della carriera, la gara di Silverstone evidentemente della feature race della Formula 3 ha regalato spettacolo perché anche qui il tempo era tantissimo mutevole e quindi i piloti che abbiamo visto elencati qui sul podio hanno fatto una strategia molto particolare rimanendo fuori con le gomme d'asciutto su pista non propriamente bagnata ma neanche totalmente asciutta alla fine loro resistono e gli altri devono fermarsi, perdono tempo e alla fine questi tre fanno podio. Peraltro Voisin avrebbe vinto la gara anche lui al traguardo ma è stato penato 10 secondi per aver fatto un sorpasso fuori pista ma è stata una gara incredibile quella di Silverstone in Formula 3 perché debba citare qualche usato di rilievo a particolare. Tommy Smith prima gara punti in carriera per l'australiano e anche il polacco Piotr Wyshniki anche lui idem come sopra insomma tantissimi risultati clamorosi. Tutto questo però ha vantaggio di Gabriele Miripilato a palermitano e primo in classifica in Formula 3 con 119 punti e in Formula 3 abbiamo ricordato che è un campionato ridotto. Silverstone è la sesta gara su 10 e quindi mancano solo tre gare a conclusione di questo campionato che non ha un vero e proprio padrone e ogni gara da qui in poi sarà letteralmente fondamentale. Tutte tra le classi propedeutiche della Formula 1 e anche la Porsche Super Cup torneranno in Ungheria all'Ungaro Ring in una pista veramente tanto tecnica dove appunto la Formula 1 tornerà a darsi ostilità. Questo è l'ultimo Racing Podcast per continuare dalla Formula 1 in attesa che ritorni appunto in Ungheria. Domenica prossima parliamo sempre di Racing Podcast ma di Superbike e in attesa di mercoledì con un video speciale a tema kart e l'appuntamento oramai con il direttore del destino del gioco del baseball MLB. Il saluto da parte di Matthew Thorgard. Ci vediamo a un prossimo video. Grazie.